... Continuando la nostra protesta per ottenere dall'amministrazione comunale capitolina, dal sindaco Gianni Elemano, la tutta raggiunta, il trasferimento periodico ogni tre anni, da un municipio all'altro, dei dipendenti della Polizia Municipale e dei dipendenti degli uffici tecnici comunali, oggi abbiamo scelto la nostra serie di forme eclatanti di protesta, un incatenamento davanti all'Agenzia giornalistica Italia, Agi. E praticamente continua ancora dal Campidoglio il silenzio istituzionale di fronte a questo problema che abbiamo sollevato, dopo una campagna elettorale vinta sulla sicurezza, sulla legalità, praticamente il Campidoglio ci sta rispondendo picche a questa richiesta legittima di trasferimento intermunicipale ogni tre anni per garantire la trasparenza e la legalità nella pubblica amministrazione, perciò nell'espletamento delle funzioni come garantito dall'articolo 97 della Carta Costituzionale. Sono troppi i casi di alcuni vigili urbani, alcune mele marce di questi comparti, alcuni vigili urbani, perciò alcuni dipendenti uffici tecnici che vengono inquisiti per reati di concussione e corruzione, illeciti, abusi, eccetera, eccetera. Questo a garanzia dei cittadini per ottenere un comportamento istituzionale lecito e soprattutto un comportamento all'insegna della trasparenza e dell'imparzialità, perché non ci siano figli e figliastri e soprattutto per garantire che poche mele marce possano mettere a repentaglio l'immagine del corpo della Polizia Municipale e dei dipendenti di uffici tecnici, perciò tutto quello che è l'organizzazione, il sistema, l'apparato dell'intero comune di Roma. Il sindaco Alemanno non ci ha ancora dato questa risposta dopo aver demandato tutta la palla alla questione all'assessore al personale Enrico Cavallari e dopo aver incassato il benestare, quello che in qualche modo è il pensiero positivo in merito a questa questione da parte del vice comandante generale Diego Porta che a nome del comandante generale Angelo Giuliani ci ha dato l'ok e dopo aver incassato anche il consenso sulla questione da parte di alcuni presidenti di municipio, il sindaco Alemanno non continua a non darci risposte, a nonostante 30.000 firme di una petizione, 30.000 firme e soprattutto a fronte di gruppi spontanei che sono nati su Facebook e con tanti attestati stima che stiamo avendo da questo punto di vista, non si può più prescindere da questa questione per garantire trasparenza e legalità bisogna trasferire, praticamente bisogna far ruotare assolutamente i vicini urbani e i dipendenti di uffici tecnici in comune per evitare le collusioni sul territorio. Perciò un governo che sta parlando in questi giorni anche della questione corruzione non può prescindere il sindaco Alemanno, chiediamo che se entro la campagna, alla fine della campagna elettorale questa richiesta non venga accolta, chiediamo di non votare per questi partiti di questo centrodestra che fanno solo proclami ma non poi non fanno, non mettono in atto comportamenti idonei a ottenere poi risultati soddisfacenti della lotta contro la corruzione, contro l'illegalità dilagante.